La tecnologia ha sicuramente cambiato il nostro modo di lavorare negli ultimi anni. C'è una ricerca dell'oggettività sempre più grande. Sicuramente l'arrivo di sistemi digitali per oggettivare i risultati di test, valutazioni e quant'altro ha portato in fisioterapia negli ultimi anni dei cambiamenti molto importanti e questo ci permette di avere delle situazioni in cui possiamo prendere decisioni molto più precise sia in termini di prevenzione per il giocatore che di gestione dell'infortunio e che del suo ritorno alla piena performance post-infortunio. Non abbiamo una tecnologia che ci permette di migliorare la performance magicamente del giocatore. Quello che ci permette la tecnologia adesso è di avere sempre e costantemente informazioni oggettive da presentare allo staff, ai giocatori e questo indirettamente migliora la loro performance perché riduci il rischio di infortunio. La riduzione del rischio di infortunio ti permette di avere i giocatori più in forma in campo. Sicuramente i giocatori sono la nostra risorsa più importante ed è la risorsa che dobbiamo tutelare. L'avere a disposizione dei dati aggiornati quotidianamente ci permette appunto di avere un check mattutino e costante su ognuno di loro. Quello che noi facciamo quindi è incrociare i dati che derivano dal loro well-being, cioè dal loro benessere generale, da come hanno dormito, da come si sentono la mattina, da dei test veloci che fanno quando entrano in struttura, assieme ai dati medici eventuali, i test, se sono infortunati o se stanno rientrando da infortuni e i dati GPS. Questo incrocio di dati ci permette quindi di avere la situazione sempre sotto controllo, di poter evitare il rischio di infortunio o comunque di ridurlo e cercare quindi di avere a disposizione sempre la squadra migliore e nelle migliori condizioni possibili. Questi dati, ovviamente questa tecnologia ci ha permesso di avere benefici come giocatori, principalmente giorno a giorno su quello che facciamo in allenamento. Nello stesso momento abbiamo dei feedback di parte degli allenatori, anche dopo le partite abbiamo dei buoni feedback, quindi possiamo migliorarci costantemente. Centralizzare e analizzare tutte le informazioni che derivano dai giocatori in un'unica piattaforma Committer Pro ci permette di essere sempre tutti aggiornati su ogni aspetto del giocatore. Questo ovviamente rende più facile ogni tipo di decisione. Ovviamente avere un sistema di intelligence integrato su tutte le aree della nostra squadra ha migliorato la comunicazione interpersonale fra staff e fra staff e giocatori. C'è un'unica piattaforma